La lista civica insieme per Santa Maria in Baro propone Fabio Lanci come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali in programma anche in questo comune il prossimo 25 maggio. Si tratta di una lista di giovani alla primissima esperienza e quindi con tanto entusiasmo probabilmente. Ma chiediamo proprio al candidato sindaco di spiegarci innanzitutto i motivi che lo hanno spinto a intraprendere questa nuova avventura. L'idea di questa lista nasce dalla determinazione di alcune persone che ci hanno sostenuto e ritengono che noi possiamo dare un'impronta di rinnovamento a questa nostra cittadina. Siamo l'unica lista ad essere completamente rinnovata e anche questo è uno dei fondamentali propositi che abbiamo messo anche nel nostro programma. Noi puntiamo su un rinvigorimento, dare nuova linfa a questa cittadina, puntiamo sui giovani tant'è che stiamo creando anche un coordinamento che li tenga vivi nei nostri programmi e cercheremo per questo di coinvolgerli al massimo. Il nostro programma si basa su dei fondamentali. Uno, dare seguito a delle iniziative che già l'amministrazione precedente ha iniziato e soprattutto riavvicinare un po' la popolazione a quei centri di aggregazione, quali le piazze, e soprattutto avere come presupposti quei valori fondamentali della nostra cittadina, quali l'umiltà, il lavoro, la famiglia. Ecco, sono componenti che noi vogliamo rinforzare e rivitalizzare, proprio perché crediamo che siano i valori sui quali ciascuno di noi è cresciuto e per questo vogliamo portarli avanti. La campagna elettorale volge al momento cruciale, ci approssimiamo alle elezioni, presumo abbiate già iniziato un giro di consultazioni con i concittadini per raccogliere anche i loro pareri. Certo, noi stiamo iniziando adesso la nostra campagna elettorale, lo faremo abbracciando i cittadini, cercando di dialogare con loro per capire anche quali sono le problematiche, le idee, gli spunti. Ecco, credo che sia fondamentale far capire, far percepire al cittadino la nostra vicinanza e i nostri propositi. La nostra sarà una campagna elettorale votata all'estrema serenità, i toni saranno sereni nel rispetto anche ai nostri avversari. Sarà una battaglia dura, ma siamo pronti a portare avanti i nostri valori, i valori sui quali fondiamo il nostro gruppo.